t ma guarda quanto sono che moto del voto e' merito della mia super legan fantastiche libera la cosa ricordo mega e quando andiamo quando molti mi sa che avevano già tolto il video perché l'hanno che è una cazzata ma noi siamo alieni ma se scommetto davvero tanto che Luca neanche sarà arrivato metà video perché ti c'è ma lo so perché ma io ho finito io ho qualche cosa io posso neanche fendermi la bibita ma dimetti iniziamo a campare ma si dai vado su chi scala io io ma vedi è odioso quest'arma perché la vedi e poi la vedi persino cioè prima di quell'arma c'è la la Regan Mark 2 ed è odioso tieni la Mark 2 davvero no fuck ti faccio un regalo qui viene la canzone dai troll e con la Mark 2 davvero no fuck oh ma la quantità ti pigliavo per il culo no sei diventata davvero brava no ti pigliavo per il culo c'è una bella vista allora continuiamo ma era tutto a posto ma che in can c'è una bella vista mi chiamo a votare la cosa si è si è si è si è un testo tutti i punti che ci serve ci sono già così tanti bezzoni mi amiamo la mano magari non ho ancora visto ma dice lo conosco facciamo la cosa che accopriamo non prima prima che si attivano tessi e copriamo anche tu faccio finta di un gare ma si si quanto sangue ho ha finito io quando i problemi e non so inizia a fare bulla 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 basta mi esploso in faccia ma dici attenzione attenzione cuoce non arrivano sangue acqua culo video c'è uno che saltellava sembrava in un po sembrava il dittorio foro tutto un coperto su youtube si infatti mi fai tutta tensione youtube come una giungla di un punto di pensare sono le stesse youtube modiglia e potenziali web non ti vuoi che ho cambiato no su cecchino voi non sapete ma prima ma porca 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 ognuno tatuagento non sono caduto a terra ho fatto finta ma che credete che io crepi ma mi ha fatto il mio piacere è un casino come un casino è più facile saremmo già morti ma la crepe non glielo assieme paurosa ok ho fatto tutto perchè siamo registrati prodotti non piace registrati mi fa ui vedo un più due in lontananza ah lo prendo io uccidelo ah si da uccidere io ok ok fai per cazzo va che sono in assenza di tutto si in assenza si ti troca la troca dai videogioco oh oh fa un culo oh fa un culo no ma troppo fatica ma uccidelo hai una ray gun si ma vuoi usare il cecchino perchè per per cambiare oh bravo e quanto crincula sta arma ma dici no io faccio c'era il vestito blu quindi cambia tutto questo il vestito blu è quello più potente oh 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 quella che avevo io prima fico 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 è io ma scuola perchè te l'hai rinunciato si e perchè ho fatto cosa schifo fammi far cazzo va non la voglio c'è qualcuno uoi sento qualcuno ah 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 dai fico salvare ogni anno che sei altra spalla morte getx chier ahahah hole che caldo ma come calmo ii tax sto cuocendo sono peggio di un forno ma guarda te guarda te anche se avessi se avessi beccato dei zombie a quest'ora avrei fatto delle una combo stato sferica sai che io avevo visto Masterchef Masterchef che cosa fai? ho visto Masterchef e cosa c'entra questa cosa? stiamo cucinando zombie no? già abbiamo fatto un po' il tavolo venti aspetta 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 che dito ok grazie no giusto per vedere la battuta voglio essere gentile mi prego ma come non era una battuta ha detto cuciniamo zombie significa che ho fatto una battuta non ho neanche capita una battuta non divertente che non ho neanche capito era una battuta proprio che non era neanche una battuta ah ok bene meno male tutto si spiega che parla non ho neanche più stato no? figurati se non shotta è a magno non ho shotta più nulla oh shotta non shotta più ok shotta allora sei un po' inceppato visto shotta ma io ti ho detto che shotta ma non mi incontro a dire sempre oh ma non shotta ma che palle iniziala devi dirlo che non shotta non shotta tu mi dici che non che shotta visto shotta ma perchè mi dici che non shotta ma di qualcosa qualcosa ma mi senta oh l'ho ucciso no? si ma io vorrei andarmene in giro vorrei esplorare il mondo ok il mondo è tutto intorno a me chi è che dici già questo? non mi ricordo era forse una vecchia pubblicità della telefonia ma quella quella voce sembrava della team quella voce invece sembrava Antonio Banderas ecco che fa un muino vero? eh eh no però il mondo è tutto intorno a me mi sembra che fosse un pubblicità della telefonia non sto a dire che giocchiere no no giocco giocco c'è anche dietro che c'è davanti ma non morire c'è noventi dietro a 10 no 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 più venga salvati no 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 più venga salvati poi ti salvo perché sei già morto ho ho mi sapi quando sono morto nemmo dietro ma fa ma fa ho 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 per l'ultima.it ma come cammazzava senza facilmente gli zombie perché ci sono shop shop ma infatti non c'è la macchina spara la palla ecco si no mo ok ok anch'io che tempissima ma che palle o non è possibile è possibile è possibile è possibile è possibile copyright no ho preso via flashbang l'ho ucciso l'ho ucciso in pochissimi colpi e chi lo sa? con quest'arma l'ho ucciso ti ho potuto vero ma lo siamo proprio matacchione adesso testiamo la mira di quest'arma bella. ma vaffanculo il giochino di merda improvvisamente a mira a mira guarda quanti cazzo di buchi fa no vaffanculo Guarda io ho sparato in un punto e guarda dove è andata Ah mi fa male Ma perché lo so starlo? Ma infatti ma perché anche io stavo il cecchino Oh occhio Oh fuck 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 shit shit Stiamo facendo schifo Cioè per terra Cosa per terra? Ucciso ucciso Cosa c'è? Attenzione un topo Ah! C'è per terra Ah 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 Fa un culo Fa un culo Mamma mia che gioco di squadra Cosa è possibile Beh Ma poi se dicono Cosa è possibile Cosa è possibile Cosa è possibile Cosa è possibile Italiano ALEESIA What the fuck? Eh eh Ma c'è mi scimmia E tu devi star quassù No ma cos'è? No ma cos'è? Ora viene curato Grazie Ah ah Ma tratto Minzi Abbio ucciso tanti di quegli zombie Non ho fatto un cacchio di punti Già è strano Ma ancora Ma che palle che siete Oh Ma notare che La mira non è più assistita Dopo a un certo punto A un certo punto Oh bravo Bravo Scusa No commento No commento Ma che palle Dai un'arma Che palle Ma perché tu c'hai 9 Ci avevi 9.000 No è forse da 8.000 Si 8.000 Oh muni Anche se l'abbiamo appena prese Sto facendo schifo Ma io pure ho fatto precisione E' un meno punti Ma che cacchio What the fuck Cosa ho fatto What the fuck Benessi Mi sono bastati Mi arriva un altro Non più Cosa ho preso Non so E vai E' quello che ci vuole Non serve a niente In questi spazi chiusi Ma vabbè Già Potenziato straffiglio Eh Percato che qua non si può potenziare Già Capone Mi stavo pure per morire Non so come Ho bisogno dei jug Ho bisogno dei jug Oh 400 Vai Dammi i jug E' arrivato qualcuno sotto Già Ma che palle Uccidi 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 Uh per due Per due Non muoio No 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 Sono un sappolo Ma Sono Sottotitamente in trappola Mi sono liberato dalla trappola Sto salendo Ok Intanto Ma sto Ah Fa un po' pensare Non so Non so Ma che penso che sia Sei te Quando Cioè Vi vedo l'improvviso Sti maledetti E dice Ma sei tanto è Ma sei tanto è Sono zombie che sarà mai Ma si Ma Ma Perché faccio così pochi punti ma guarda Ma perché ne faccio così tanti ma guarda Ma hai detto Ma quanto siamo già come questo video Tanto tanto ma tanto diviso in parte Ma sei ma quanto odioso ma quanto odioso sto gioco Ma sei perché Ma un muro una Ma che dici Ti stavo guinando sempre una mafantara Non sembra velocizzato ma perchè troppe ridi ti viene benissimo si è strano come l'ho ucciso nessuno contro la scale finestra, scale, scale, tutto dei cilti nessuno non c'era nessuno ahhh non c'è v a la 1 ma per Ma sembrano che faccia un'altra nera Oh ma non ti sembra che faccia un'altra nera Che schifo che abbiamo Quanto si è variato in round? Quindi 16 Qualcosa è che siamo a terra tre volte? Vabbò dai questa qua diciamo che È il nostro primo video quindi è stato abbastanza Primo video ma non prima giocata Sì sì quello è vero Però sai che quando si fanno i video È sempre diverso come Che non sai E come dice Forrest Gump Non sai mai quello che ti capita Parlo della cassa Vabbè lasciamo stare Ecco appunto Non ci abbiamo capito niente Abbiamo detto Ma di che minghe sta parlando WTF La prossima volta vi diciamo già in anticipo Cosa faremo Eh vediamo se ci sarà una prossima volta Che faremo faremo città Dici Oppure Alcatraz no Ci fanno i occhi Ci fanno i occhi Sì infatti ci troviamo Oh anche in questo è da un po' che non facciamo Guarda con le tattacelle Sì Ci sta pagando Ma trema tutto No Allora Potremmo fare questa la prossima volta Se riusciamo Se ci ricordiamo anche I bastoni Vorrei far vedere In single player Perché è troppo figo E con loro non riesco A indirizzarvi Nella via giusta Eh ma dimmi te È tutto un casino Nella via della forza Per noi sta parlando anche Del mio Del nostro amico Luca Sì ma Luca Tanto non farà capire Sì infatti Voi non vi immaginate Che casino Organizzarsi Con questi due Io dico Ma adesso Ok vado a sinistra Vai su No vado giù Allora Così bisogna dire Sali giù Va bene dai Ora concludiamo con questo video Eh già Quindi Ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Andate a visitare La pagina di facebook Mia Di Stongerplay Se Lascia il link In descrizione del video E se è anche il suo Ma che se ne frega Del suo Anche se non faccio mai niente Ma vabbè No la pagina di facebook Non vi metto il link Però METTI IL LINK Iscrivetevi al mio canale Andate a visitare Il canale di Stongerplay96 E metti il link A mio canale Link in descrizione Eh almeno quello E Ma se vuoi Metti anche il link Da Game Capture Metti caso che c'è gente Che vuole fare i video Vabbè ve lo dico Con cosa ti vengono a dare No 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 Tu metti il link In descrizione vi dico Con cosa registro E dove poterlo comprare A poco A poco Con poco prezzo Questo lo sanno tutti Amazon per sempre Sì ma Amazon forever Ma boh dai Stiamo Pongando il finto L'ho posto a vita Appunto Quindi vi ripeto Se il video vi è piaciuto Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale A quello di Strongplayer96 In descrizione di nuovo Esatto E ciao a tutti ragazzi Ciao belli Grazie a tutti